La lettiera del gatto spesso è formata da silice e da materiali che non si dissolvono nell'acqua, al contrario possono ostacolare e bloccare le tubature. Il caffè macinato può bloccare facilmente i tubi e quindi facilitare un blocco. I gel che si trovano all'interno non si risolvono nell'acqua, inoltre i pannolini tendono a gonfiarsi. Non vanno assolutamente gettate nel water poiché sono spesso causa di blocchi nelle tubature. Gli oli di cottura e altri lubrificanti non devono mai essere gettati nel water poiché una volta raffreddati si solidificano. Si bloccano nelle tubature e creano ingorghi poiché accumulano ulteriori rifiuti come ad esempio i capelli.